Altro colpo messo a segno dalla polizia stradale di Arezzo grazie ad un'intuizione nata quasi per caso. Durante un soccorso in A1 di un automobilista rimasto in panne con la sua auto, a passo lento, vista la coda di veicoli, stava procedendo una Ford Ka con a bordo un uomo. Dall'esperto intuito gli agenti hanno deciso di seguire quell'auto una volta terminato l'intervento di soccorso, una volta fermata il conducente, un trentenne di origine straniera ma residente a Parma non ha saputo dare motivazioni del perché stesse andando in direzione sud. È per questo che gli agenti hanno fatto scattare la perquisizione che ha portato alla luce, nascosto nel cassetto portaoggetti, un panetto di cellofan con impressa la sigla F1. All'interno era presente cocaina purissima che nel mercato avrebbe fruttato circa 80.000 euro. Una volta stabilito questo la polizia di Arezzo ha comunicato ai colleghi di Parma di eseguire la perquisizione presso l'abitazione dell'uomo nella città emiliana, all'interno della quale hanno trovato la compagna del trentenne intenta a disfarsi di altri 3,6 kg di cocaina. Oltre alla droga i poliziotti avrebbero trovato anche 71.000 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di narcotrafficanti. Alla fine gli arresti sono stati due e la droga sequestrata, per poi essere confiscata e distrutta, ammonta a 4,6 kg per un valore complessivo sul mercato dello spaccio che sarebbe stato di ben oltre 350.000 euro. I soldi sequestrati, 71.000 euro invece, terminato l'iter giudiziario, saranno incamerati dall'erario dello Stato. Sia la donna che l'uomo arrestati erano sconosciuti alla giustizia, quindi incensurati.